Assolutamente sì, è stato un viaggio magnifico attraverso le nostre montagne che sono incredibilmente belle. Io c'erano dei posti che non avevo mai visto e devo dire che la partecipazione di questi giovani è stato un connubio. Io sono diventato giovane e loro mi hanno ascoltato e mi sono divertito anche io tanto quanto loro e spero di aver potuto passare un messaggio anche per loro molto molto bello. Un aspetto che si è notato molto guardando i filmati, delle immagini straordinarie davvero eccezionali dei paesaggi anche di tante parti del canton Ticino e della Svizzera italiana che non conosciamo. Abbiamo visto Romano Notares nei panni del motivatore, del maestro. Le piace questo ruolo, si è capito che le piace? Io devo dire che a parte essere stato un alpinista che ha girato un po' tutto il mondo mi è sempre piaciuto portare in montagna e anche stare con i giovani. Tant'è vero che anche nella mia vita in fondo da alpinista ho aiutato tanti giovani, più giovani di me naturalmente che sono venuti dopo di me a portarli verso l'Himalaya, verso tutto il mondo e con me sono stati degli alpinisti che hanno fatto delle cose incredibili. Tutti i giovani che sono venuti da me per poter capire come si poteva avvicinarsi alla Patagonia, all'Antarctica, all'Alcana, tutto il mondo. L'occasione anche di trasmettere una passione, perché in fondo quando c'è una passione la cosa forse più bella è quella di condividerla, quella di trasmettere agli altri. E quella soprattutto anche il giorno che magari tu arrivi, che hai una certa età e non puoi più fare le cose estreme che hai fatto durante tutta la vita, vederle fare da giovani che sono stati vicino a te e che hanno imparato anche un po' da te come si fa ad andare in giro per il mondo. C'è la passione per la montagna, anche per l'alpinismo di varie gradazioni, c'è la passione però per la natura, per il paesaggio, per i luoghi, anche per l'ambiente. Anche questo si trasmette attraverso il viaggio sulle nostre montagne. Assolutamente sì, io ho sempre fatto la montagna nel senso anche proprio di essere con la natura, di essere quasi un po' come un animale nella natura. E devo dire che è quello che mi ha fatto la ricchezza e la libertà della mia vita, perché se la montagna e la natura la vivi affascinato dal luogo dove tu sei, puoi essere in Antartide, puoi essere nelle Alpi Ticinesi, puoi essere su un 4000 del Vallese oppure in Canada, stare nella natura è una gioia, è una libertà che non tutti hanno e questo è quello che mi ha dato una vita bellissima. Una vita fortunata da questo punto di vista? Assolutamente sì. Una passione, una grande passione trasformata in professioni, perché in fondo l'alpinista, la guida alpina, l'esploratore, sono tante facce della stessa medaglia, in fondo, quelle che ha vissuto, vive Romano Notaris. Esattamente, io devo dire che ho fatto una parte di alpinismo estremo negli anni 80, dove ho fatto nella mia vita tanta montagna con gli amici alpinista che erano praticamente uguali a me dall'altra parte della corda. Ma ho anche fatto una parte della mia vita come guida alpina. E la guida alpina io trovo che sia uno dei mestieri più belli del mondo, perché ti dà la possibilità, prima di tutto, a dipendenza come lo fai, hai la possibilità di convincere il cliente a partire magari per un grande viaggio come in Antartide. Io con un amico cliente, che si chiama Gianni, sono andato a scalare la cima più alta dell'Antartide a 60 gradi sotto zero. Quindi portare un amico cliente in questi posti non è da tutti. Sono state delle esperienze che mi hanno dato tantissimo, tanto quanto fare una grandissima scalata in una parete con un amico che è invece un alpinista come me. Parlava di esperienze a condizioni anche estreme. Allora in montagna penso che a volte, a dipendenza anche dal tipo di situazione, bisogna davvero dare tutto. Bisogna andare a trovare le energie residue che da qualche parte ci sono. Ci vuole un carattere particolare per fare un alpinista e anche per fare la guida alpina. Assolutamente, perché devo dire, per esempio, si può fare festa, si può stare vivendo, non so, in città o vivendo una serata con degli amici, ci sia un certo comportamento. Quando si va e che si parte per una grande spedizione o tu conduci un amico cliente in montagna, lì cambia tutto, il gioco diventa una responsabilità incredibile ed è lì il bello che in fondo il cliente si fida di te, ma tu attraverso di lui gioisci per potergli far fare delle cose che lui desidera e che da solo non sarebbe capace di fare. Queste sono le gioie della guida alpina che io ho provato tante volte in tutto il mondo. Ho portato un po' gente in Canada, in Alaska, in Antartida, in Patagonia, in Himalaya e devo dire che questi giorni passati con gli amici clienti in montagna sono stati quello che mi hanno dato una gioia incredibile. È un po' quello che ho provato assieme ai ragazzi durante questo viaggio che mi hanno fatto raccontare, ho raccontato e loro entusiasti mi ascoltavano. Parlava di clienti, di persone che richiedono portaci laddove da soli non potremo mai arrivare. Che cosa cercano questi clienti? Cercano la sfida con se stessi, cercano di scoprire una parte di mondo che altrimenti non scoprirebbero mai? C'è una motivazione comune in chi si avvicina all'alpinismo a passi lenti? Io direi che comunque un cliente amico che si avvicina a una guida alpina per poterlo portare in montagna è uno che sogna delle cose che lui da giovane non ha mai potuto fare e che arriva a un certo momento e vorrebbe fare. Allora a questo punto si appoggia qualcuno di più bravo di lui ed è questo il gioco. Cos'è il nostro gioco di guida alpine? È quello che tu porti qualcuno in un posto dove lui lo sogna e che da solo non potrebbe mai andare e tu in fondo hai tanta gioia facendo questo lavoro. Sei il costruttore di un sogno che poi qualcuno assapora fino in fondo ma anche la guida pur con una grande responsabilità perché la guida alpina è responsabile dalla partenza al ritorno del successo della spedizione. Quindi c'è una grande responsabilità. Può essere anche più difficile con gli amici oppure no? No, con gli amici è diverso perché in fondo quando tu scali una montagna con un amico che è alla tua altezza cioè che in fondo ci si scambia la corda ma dalla parte di là della corda c'è un amico che è un alpinista come te, sono due cose diverse. Con i clienti amici è una cosa. Io chiamo clienti amici perché tutti i clienti che ho avuto come guida alpina sono diventati dei grandi amici. Per esempio devo raccontare in Antartide abbiamo scolato una volta con dei clienti amici il Mont Shackleton che era la seconda volta che questa montagna si faceva al mondo. C'era stata una spedizione ucraina in cima e poi ci siamo stati noi per una via diversa anche da loro. E lì come guida ho fatto un'opera d'arte ma i clienti sono stati bravi a darmi la completa fiducia per raggiungere la cima di questa montagna ed è stata una storia incredibile perché abbiamo messo un po' a repentaglio tutti la vita ma nello stesso tempo siamo riusciti tutti a portarsi fuori e loro pendevano un po' dalla mia esperienza. Fortunatamente in questa spedizione c'era un amico che si chiamava Carlo Spinelli che è un grande amico e lì era non più un cliente ma era praticamente una rocca forte per me che mi ha aiutato a portare in cima. Quando sono tornato in barca ho pianto per tre ore perché è stata forse una delle cose che come guida alpina è stata più difficile. C'era un'emozione fortissima. Assolutamente sì e cioè aver avuto la gioia di portare in cima sei persone che in fondo sognavano di fare questa cosa ma non avrebbero mai pensato. Abbiamo attraversato 10 chilometri di ghiacciaio pieni di crepacci. Abbiamo dovuto entrare in un crepaccio per uscire per andare sulla cima. Cioè è stata un'avventura incredibile fatta con degli amici clienti. Allora emergenze, esperienze particolari con delle grandi emergenze. Questo è un esempio di una situazione difficile. Ce ne sono tante di emergenze in montagna. Ecco si impara. Certo l'esperienza aiuta a gestire l'emergenza ma ogni situazione anche per l'espertissimo Romano Notaris è una situazione che ha degli elementi di novità. Quindi che cosa che cosa aiuta in quei momenti? Ma io penso che sia una cosa molto istintiva. Bisogna sapersi ascoltare. Cioè prima di tutto sempre avere un grande rispetto della natura perché è sempre la natura che la fa la padrona. Quindi bisogna sempre essere molto attenti. e poi quasi come gli animali. A me è capitato tante volte di guardare i camusci come fanno durante quando li vedi che si muovono e che affiutano la valanga. Per noi alpinisti è un po' la stessa cosa. Chi ha la più esperienza quando è esposto a dei pericoli oggettivi o che è nei momenti più difficili, io ho sempre alzato il naso ho sempre ascoltato il mio intelletto. E quindi a quel momento lì devi essere molto attento e questa è forse una delle cose che se ce l'hai tante volte ti aiuta e ti salva la vita. Questa sensibilità è molto spiccata, dittata anche dall'esperienza, ma la paura in tutto ciò è una compagna silenziosa che comunque c'è o è qualcosa che non compare mai salvo nel momento in cui... Ma diciamo che la paura deve esserci, perché il rispetto della natura è importante, ma però la paura motiva anche tanta adrenalina, come si dice. Quindi è questo contrasto e lì bisogna sapere sempre quando è il momento di dire no o il momento di salire sulla cima. Per esempio ci sono state cime che io ho dovuto rinunciare a 100 metri dalla cima, che magari ci avevo messo un anno di tempo per poter... e quindi se non rinunci al momento giusto, è lì che il punto dove tu devi essere molto rispettoso della natura e sapere dire no. E lì ti salva la vita. Sapersi fermare al momento giusto. Lei ha detto una volta che la montagna o poteva amarla o poteva odiarla. Ha scelto di amarla ed è un amore, si può anche dire corrisposto, lo vediamo anche qui che sta arrampicando sul sasso di casa, che però non è proprio la cosa più semplice del mondo, credo. Ma sì, io devo dire che ho fatto una vita intera in montagna e quello che mi ha dato una gioia grandissima, lo dico sempre, se dovrei ritornare, non si ritorna, ma comunque se dovessi rifare la mia vita la rifarei esattamente uguale a quello che ho fatto perché attraverso la natura, attraverso la montagna ho avuto la fortuna di vivere una vita splendida e di passare dei momenti, le amicizie, ma la libertà, soprattutto la libertà che la natura, la montagna mi ha dato, è impagabile, cioè non c'è prezzo al mondo che possa darmi quello che mi ha dato la montagna. L'amicizia e la montagna non è retorica, è davvero qualcosa di forte, poi dipende probabilmente anche dai caratteri, dalla capacità di legare con le persone, anche alpinisti dei solitari, ce ne sono anche quelli? Assolutamente, ecco io non sono mai stato un grande solitario, ho fatto qualcosa di solitario naturalmente anche qualche bella cosa, ma non sono mai stato un alpinista solitario, mi è sempre piaciuto condividere i momenti di gioia in mezzo alla montagna e in mezzo alla natura, tant'è vero che devo dire, fare la guida per me è stato bellissimo e andare in montagna con degli amici è stato bellissimo, ma tante volte portare in montagna su una cima qualcuno al quale si affida di te è forse stato anche magari tante volte più bello che la vera impresa fatta con un amico, perché la gioia che tu vedi negli occhi di qualcuno che gli dai la felicità di arrivare in cima a un 4000 o al Mount McKillen in Alaska, io ho fatto anche il Mount McKillen in Alaska con un amico cliente, sempre il Gianni e quindi devo dire la verità che quando siamo arrivati in cima è stata una gioia grandiosa, attraverso di lui ho gioito tanto quando se avessi fatto la parete enorme di quissà cosa. Quando si arriva in cima poi c'è un grande tema che è anche quello del tornare del ritorno, ma c'è anche probabilmente sia per l'alpinista sia per la guida alpina il pensiero rivolto alla prossima impresa. Assolutamente, cioè la cima scioglie i nodi, se si raggiunge una cima scioglie i nodi, naturalmente si finisce quasi sempre su una grande cima a delle lacrime, però il pensiero subito dopo quale sarà la prossima avventura, la prossima impresa e questo per me è sempre stato uno stimolo, arrivare in cima a un 8000 per modo di dire il pensiero non era dire, chissà cosa sarà la prossima cima, però non ho mai voluto fare neanche tutti, a me non sono mai interessati tutti gli 8000, ma neanche tutti gli 8000 dalla via normale. Io sono stato tre volte per tornare al Macalù che è in fondo una montagna, ma non ho mai tentato di fare il Macalù dalla via normale, ho sempre tentato di fare il Macalù perché disegnare una via nuova su una montagna è come un artista quando dipinge un quadro. Solo un accenno appunto a una certa tendenza nell'alpinismo anche moderno, cioè la collezione degli 8000, le montagne salite a passo di corso o più o meno del genere, è qualcosa che a Roma la montagna, se lo vediamo percorrere le nostre creste con il passo del Montanaro, con dietro il gruppo di giovani alpinisti, ma la prestazione è intesa come la collezione di record, è qualcosa che ha davvero senso. Ma io direi che in fondo, questo dovremmo lasciarlo dire ai giovani, che in fondo una, se vogliamo, una tecnica, una tecnica, un'abitudine che sono nati negli ultimi anni, quello di fare il record salendo e scendendo più veloce dalla cima del Monte Bianco, la cima del Cervino. Sono dei personaggi straordinari che fanno delle cose. Assolutamente sì, sono degli atleti incredibili che si allenano con delle cose specifiche per poter arrivare a fare dei risultati di velocità incredibile. Io devo dire, ho corso in montagna anch'io, ma quando c'era il brutto tempo. Non ho mai cercato di correre quando era bel tempo, tant'è vero che ho fatto delle salite dove a 100 metri dalla cima il tempo era talmente bello e praticamente la meteo del giorno dopo dava bello che anche se avessimo potuto raggiungere la cima e scendere abbiamo bivaccato per poter goderci la notte sotto le stelle a 100 metri dalla cima. Questa era una mia politica, una mia etica che ho sempre cercato di sfruttare, però è capitato anche a me di correre soprattutto quando ci sono i temporali o che ti raggiunge la bufera. Allora lì è meglio andare. L'esploratore è una figura diversa concretamente rispetto all'alpinista, cioè andare non avendo lo stress della ricerca della vetta. È un altro modo di pensare l'avventura? È un altro modo di pensare. Io come esploratore non è che abbia fatto grandi cose, ma comunque ho attraversato lo ielo continental north, che sono circa 200 km di ghiacciaio in pianura ed era la prima volta che si attraversava nella storia questo ghiacciaio e lì è più esplorazione che alpinismo. E devo dire che è un'altra storia, prima di tutto bisogna scegliere gli itinerari, c'è tutta una storia dell'alimentazione, della benzina che ci deve avere per poter fare il caldo e tutto il resto e poi non perdersi, che non è una cosa semplice. E devo dire che quando siamo usciti dallo ielo continental north, eravamo in tre, dopo 28 giorni di attraversata era stata una storia non alpinistica ma altrettanto soddisfacente e anche altrettanto avventurosa attraversare lo ielo continental sud. Le spedizioni in Antartide con la barca sono più di esplorazione che tutto il resto, si viene a contatto con la foca leopardo, con la balena, con le orche marine, con le altre foche, i pinguini. Questa è esplorazione ed è comunque una maniera bellissima per stare nella natura. Sempre la voglia di stare nella natura, la voglia di scoprire qualcosa che non si è mai visto, che si rivede dopo anni, con altri occhi, gli occhi dell'esperienza, gli occhi del confronto con altre realtà che si sono viste. Assolutamente. Ad esempio adesso io non potrò più fare le spedizioni a 8000 metri o le cose troppo difficili perché ormai l'età la si vede anche guardandomi attraverso. Ma comunque l'esplorazione con la barca penso che sia una cosa che per me è quello che oggi come oggi mi attira di più. Tant'è vero che probabilmente se avrò la fortuna prossimamente cercherò di fare una cosa che in barca non ho mai fatto è andare nel grande nord. Ho avuto la fortuna di avere un amico che siamo diventati amici dopo aver navigato parecchio nei mari del sud che si chiama Schib Novak e lui lo chiamano il re dell'Antartide, il re di Caporn e lui ha fatto una barca nuova e probabilmente partiremo nel nord con questa barca per andare a scoprire gli orsi bianchi, cioè le popolazioni dell'Artico e viaggiare in mezzo a questi ghiacci. Questa è esplorazione pura ed è quello che oggi mi attira di più. Mi attira più che un obiettivo, mi sembra già qualcosa di messo lì e pronto a essere servito. Speriamo, assolutamente sì. Poi adesso si vedrà perché è una cosa che bisogna preparare nel giro di un anno, un anno e mezzo, quindi ci vorrà un attimo di tempo per poterla preparare. Il tempo di preparazione per il nostro cammino sulle creste tornerebbe a farne un altro? Ah sì, sarebbe bellissimo. Solo il fatto di poter stare con dei giovani e con un'equipe come abbiamo girato questo documentario, per me è stato... sono partito leggermente vecchio e sono tornato giovane. E quindi una cosa così a chi non può piacere. I giovani che c'erano mi hanno dato veramente una forza. E spero anch'io, come loro me l'hanno dimostrato, di aver dato anch'io quello che potevo e di aver dato le mie conoscenze. Cioè certamente il pubblico l'ha recepito in queste settimane davvero, perché abbiamo sentito molte reazioni positive a quello che abbiamo mostrato, alla vostra avventura, che in fondo è stata anche in queste settimane la nostra avventura. Grazie Romualtari di essere stato con noi a 60 minuti questa sera. Grazie a voi e grazie di nuovo alla RSI che ci ha dato la possibilità di fare questo viaggio bellissimo.